Questa è una prova di resistenza estrema. Chi vincerà? Duracell o le normali pile zinco carbone? Una dopo l'altra, le normali pile cedono. Sono sfinite. Non ce la fanno. Ma lui resiste e continua a salire. Quando la durata è importante, si può sempre contare su Duracell. Duracell dura fino a quattro volte di più.